Musica Patenta Valida per questa Prima serie dei 100 metri donne Vediamo le due atlete del Val Sugana E l'atleta di casa Dori Stomasini ed è un testa a testa Ma sembra che sia proprio l'atleta di casa Dori Stomasini a vincere con il tempo di 11.87 A secondo Partita la seconda serie Dei 100 metri donne Ed è Nicole Abolis Dei GS Val Sugana Che va a vincere con ampio margine Il tempo ufficioso di 12 secondi E 69 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti